Ma Simona sei una palla, sempre lì a scrivere queste mail, basta! Sì, meno male che ci sei tu, cosa faresti al posto mio se dovessi dare una comunicazione stellare, strepitosa? Sentiamo! Ma io lo direi qui adesso che sto a perdere tempo a scrivere! Stavo facendo una domanda per fare riflettere in realtà. Se tu quest'anno per il Black Friday potessi fare solo un acquisto in offerta, compreresti qualcosa che poi diventa superato nel tempo come l'ennesimo gadget di tecnologia o l'ennesimo utensile per la casa che poi finisce in un cassetto e nessuno usa più? Oppure investiresti su un programma per il tuo benessere e la tua bellezza che più lo usi e più funziona nel tempo e ti fa stare sempre meglio e ti fa sembrare sempre più giovane? Cosa faresti? Ma che domanda! Ma ci sono questi programmi in offerta per il Black Friday? Quest'anno per il Black Friday ci sono i miei programmi di benessere e bellezza e stai sicura che funzionano benissimo! Inizia a iscriverti alla mia lista VIP! VIP! Tutto parte da lì!